E vabbè a tutti ragazzi sono Ranger, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qui ragazzi con un contest Ebbene si con questo contest ragazzi potete vincere un bellissimo drone Per partecipare a questo contest ragazzi è veramente molto semplice Vi basterà mettere like a questo video, like a mia pagina di Facebook, like alla pagina di iGleaver Italia Ed infine sulla mia pagina di Facebook troverete un post riguardante il contest Vi basterà lasciare un commento taggando tre vostri amici che anche loro ragazzi vinceranno un premio random di iGleaver E come ultima cosa vi basterà condividere il post Il contest inizierà oggi domenica 24 e finirà domenica 31 quindi avrete una settimana per partecipare a questo contest I risultati del contest saranno pubblicati sulla mia pagina di Facebook Quindi mi raccomando lunedì controllate le mie pagina di Facebook per sapere se avete vinto Mi raccomando dirvi a tutti di questo contest e buona fortuna a tutti Bella